musica 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 qui abbiamo l'altra wonder woman musica musica diana si certo che ho battlefield 1 sia a iron harvest andrambe ragazzi andrambe ragazzi non svegliamo qui pretender io sono in comando tu stai in amazon honor siamo a temprar la mann's aggression non la iniziare dopo metropolis superman mi ha mostrato la verità la mann's aggression non può essere temprata solo svegliata sbocca l'innocente come zeus volto a palata superman ti il tuo amazone deve essere tu sei il loro queen musica 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 altri 15 minuti non di più musica 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 Oh, 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 oh. Ok, la prima eliminata. Lazzi, con la frusta non duro niente. Non è che con la spada e lo scudo duro qualcosa in più, però... Madonna. Un colpo, un colpo. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Madonna, ragazzi. Per pochissimo. Per pochissimo. And let' him be consumed by his darkest passions, rather than extricate him from despair. Sisters… Let' us return to the right side of history. Let us enter battle. But as Humankind's protector. Not its destroyer. We are Amazoners. We are here. To save mankind Eh sì, Targaz, proprio per un bricelo. Adesso Doom Days è vivo, è libero. Sta demolendo praticamente tutto. Cioè, Superman è andato, ragazzi. It gets worse by the minute. We have to get... Once I'm finished, you're all going home. You know, I get it. Like you, I plan for the day when Superman might lose control. But without help, you'll die. And the insurgency along with you. Then maybe that's my fate. We don't believe in fate. Aspetta. Qua i Batman che non si capiscono, ragazzi. Due Bruce Wayne che non si capiscono. Ma come si fa, ragazzi? Come si fa? Poi risolvono sempre con le mazzate. Cioè, lui, calmate. This is my world, my fight. You made it hours when you brought us here. Cioè, passiamo a Batman. Io ho perso il mio, ragazzi. Il mio è leggermente più scuro. Vado, raga. Dobbiamo recuperare parecchie. Ce la faremo, dai, ce la faremo. Dai che ci vediamo pazzo, dai. Il mio Batman è differente. Decisamente Batman è uno dei personaggi più forti del gioco. Anche se ho perso lo sconto. L'ho messo a muro. Mi serve un bel pugno ben assestato. Maledizione a me! Come farvi a fregare lo scontro? Per poco, ragazzi. Per poco. Vai raggiunto il livello 30. Uh. Super. Fiducia che si acquisisce coi pugni in faccia. E le coste sono inglinate. E lasciamo a finire. E le costo che... E le costo sono inglinate. Sì. Qua' la scontrata? Sì. 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 Qua' la scontrata? Eh? Da quale dimensione l'ha portato questo superman? E' da un'altra dimensione! Penso che sia l'ultimo squadro del gioco ragazzi eh! Solo non credo di farcela ragazzi, in 5 minuti ha superato tutto il capitolo, vediamo un po'. Dai, usiamo superman ragazzi contro Adam. Usa i tassi per distruggere... ah ok. Ah! Maledetto io! Non è ancora finito! Vabbè, mi ha tolto praticamente una vita. Superman ha modellato il suo governo dopo il mio. Non ci permette nessuna insurrezione! Ma non male, è andata malissimo! Ma non male, è andata malissimo! Ma non male! Mamma! Ah! 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 che possiamo ancora farcela. Ho parlato troppo, come sempre. Maronna. Eh vabbè, non ce la farò mai. Riproviamoci, riproviamoci. Non c'è una scuola. mi ha preso di spalle si ha recuperato tutto quello che ho tolto in mezz'ora di mazzare tutti che ridono invece io quando amo Joker ragazzi sto gioco Joker è molto più agile bello dinamico tutto quello che vede in giro ti lancia sarà più scazzo insomma questo vabbè raga cazzo non gli ho tolto niente se pure il lampione mi ha buttato questa è la prima volta ragazzi che perdo due volte di fila per avere mille poteri Superman io sembra più un lottatore un pugile che altro dai finalmente tutto quello che io ho tolto in mezz'ora lui lo recupera con due pugni fa un culo tu e Adam pure dai stavolta per favore Superman non addormentarti abbiamo bisogno di te fa un culo Adam Black Adam perché non l'hai utilizzato durante lo scontro porca di quella paletta ah fortuna non si è rotto abbiamo sinistro e lo sta prendendo a colpi toglie l'anello toglie brava 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 bravissimo allora me lo dai quello tuo l'anderna gialla sfidatelo da solo l'anello fai del bene fratelli ok Cesaro ciao buon pomeriggio io te sto per staccare tu sei pronto superman to take on the might of Atlantis yes we are so buon pomeriggio Grazie a tutti.